E' già aperta la strada di investimenti per oltre 50 milioni di euro grazie ai quali si potrà avviare una fase nuova per quanto riguarda l'efficientamento energetico negli edifici pubblici e il graduale abbandono delle fonti fossili. E' mercoledì prossimo a Bruxelles sarà il sindaco di Patti Mauro Quino a firmare l'atto formale del patto dei sindaci per l'energia in qualità di primo cittadino del comune capofila della struttura di sostegno Terre di Tindari con l'assistenza tecnica del consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi. Alla cerimonia della firma del patto che si tarà presso la sede di rappresentanza della regione siciliana saranno presenti anche il presidente della regione Sicilia Rosario Crocetta e il commissario europeo per l'energia Gunther Ottinger. Il patto dei sindaci, lo ricordiamo, è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnata ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Con la firma del patto, il comune di Patti e tutti gli altri enti locali aderenti alla struttura di sostegno si impegnano a raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Dopo la firma del patto dei sindaci, il comune si adopererà per la redazione del PAES, il piano di azione per l'energia sostenibile fondato sulla promozione della mobilità sostenibile, l'efficientamento energetico del patrimonio comunale, dell'edilizia civile e un maggiore ricorso all'utilizzo delle energie prodotte da fonti rinnovabili. Una volta redatto questo documento, ha concluso Aquino, lo stesso sarà presentato alla Commissione europea che provvederà al suo controllo e validazione.